Buongiorno a tutti, mi chiamo Buonaiuti Matteo e sono qui per presentarvi la mia attività di dottorato che ho svolto in questi tre anni. La mia attività è stata incentrata sostanzialmente sul progetto dello sviluppo di strumentazione finalizzata all'ambito biomedicale per la diagnostica medica. Quando parliamo di diagnosi precoce di patologie, facciamo particolarmente riferimento a diagnosticare una patologia quando non si sono ancora manifestati i sintomi caratteristici di questa malattia. Questo è particolarmente importante perché ci sono determinati tipi di patologie, adesso si parla molto anche della meningite, ma rimanendo ad esempio in ambito oftalmico, il glaucoma, che quando il paziente si rende conto che il suo campo visivo incomincia a diminuire, metà, diciamo più o meno il 50% delle fibre nervose del suo nervo ottico sono state immediatamente danneggiate. Per cui sostanzialmente, questo giusto per farvi notare quanto è importante rendersi conto il prima possibile che c'è qualche cosa che non va. D'altro canto, purtroppo spesso per effettuare una diagnosi occorre effettuare degli interventi particolarmente invasivi per i pazienti. Basti pensare ad esempio quando occorre effettuare una biopsia oppure un prelievo di midollo, oppure anche degli interventi che di per sé non sono niente di che, che però possono essere particolarmente fastidiosi come un prelievo sanguigno. Quello per cui mi sono proposto io, con la mia attività di ricerca, che ho pensato sarebbe stato carino poter fare, era vedere se si potevano realizzare dei dispositivi, degli strumenti ottici ed elettronici, che consentissero di misurare in modo non invasivo delle quantità in qualche modo correlabili o correlate con i parametri fisiologici dei tessuti. In questo modo, ho pensato, potrei dare il mio contributo al miglioramento della conoscenza di determinati meccanismi fisiologici che sono alla base della patogenesi di disturbi che poi danno luogo appunto a malattie. Visto che parliamo di strumentazione biomedicale, ho pensato di proporvi uno schema blocchi molto generico di un tipico strumento di misura biomedico. Abbiamo un sensore che rileva i segnali di interesse dal tessuto biologico, il segnale analogico viene trattato da un'elettronica di front-end che si occupa principalmente dell'amplificazione, dell'eventuale filtraggio oppure comunque di elaborazioni di tipo analogico, tipo formatura del segnale, lo rende adatto ad essere acquisito da un sistema di conversione AD ecco, teniamo presente che tutti gli strumenti, almeno la maggior parte degli strumenti biomedicali contemporanei sfrutta un'elaborazione di tipo numerico, per cui è la presenza di un convertitore AD, un'interfaccia utente chiaramente per interagire con l'operatore per presentare i dati e inoltre alcuni strumenti biomedicali hanno la necessità per effettuare la misura anche di fornire una stimolazione di qualche tipo, ad esempio, come vi farò vedere tra poco, a volte può essere necessario dare una stimolazione di tipo visivo, per cui questo stimolo potrebbe essere, ad esempio, che so io, una luce intermittente. Qualunque cosa, diciamo, si voglia misurare, gli strumenti biomedicali hanno comunque alcune caratteristiche in comune. I sensori rilevano tutti dei segnali di livello molto ridotto, sia che siano delle tensioni, che delle correnti, che delle cariche. Spesso i segnali di interesse sono sommersi in un fondo di rumore che non è trascurabile e dal quale essi devono essere discriminati. Inoltre, vi è spesso la presenza di artefatti, cioè dei contributi alla misurazione che sono dovuti principalmente a non idealità del sistema oppure, ad esempio, al soggetto, al paziente che si muove e che chiaramente devono essere discriminati dal segnale utile. Vi è spesso la necessità di effettuare delle acquisizioni piuttosto prolungate nel tempo, per il fatto che comunque tutti i processi di carattere biologico sono caratterizzati da dei tempi di risposta molto lunghi, che non certo dell'ordine dei microsecondi, ma si parla dell'unità o delle decine di secondi. E non da ultimo, da un punto di vista misuristico, problematiche relative alla taratura. E questo è dovuto principalmente al fatto che i parametri di carattere fisiologico variano molto da soggetto a soggetto, per cui è veramente difficile trovare un campione di riferimento che possa andare bene per effettuare una taratura veramente affidabile del sistema. Per cui, per motivi di tempo, non posso presentarvi tutte le linee di attività di ricerca che ho seguito. Ve ne presenterò due, uno che riguarda un riflettometro oftalmico per la misura della variazione di riflettanza sul nervo ottico e un altro è un sistema per misura di assorbanza a lunghezza d'onda dell'ultravioletto. Per quanto riguarda il primo sistema, studi effettuati sull'uomo, sul nervo ottico umano, hanno dimostrato che in presenza di stimolazione visiva diffusa sia una diminuzione nella riflettanza misurata appunto sul disco ottico. Questi studi sono abbastanza recenti, gli studi riflettometrici sul discottico sono iniziati più o meno nella prima metà degli anni 2000, nel 2004 tipo, 2004-2005. In particolare, Criteria e Riva sono stati i primi e hanno, diciamo così, misurato questa diminuzione di riflettanza utilizzando lunghezza d'onda del visibile, cioè in particolare 569 e 600 nanometri. In Giappone, invece, il gruppo di lavoro di Tsunoda ha effettuato uno studio analogo su Macaki e ha utilizzato come stimolazione visiva una luce flash. Quello che abbiamo cercato di fare noi era vedere se, utilizzando una luce di interrogazione appartenente alla gamma di lunghezza d'onda del vicino infrarosso, cioè tra i 700 e i 1000 nanometri, fosse possibile rivelare analoghe diminuzioni di riflettanza. Perché ci interessa in particolare il vicino infrarosso? Perché sono stati fatti degli studi, in particolare sulla corteccia cerebrale nell'uomo, che hanno mostrato sostanzialmente una correlazione tra la presenza di attività neurale e una variazione delle proprietà ottiche dei tessuti in termini di assorbimento e diffusione della luce. Queste variazioni di proprietà ottiche sono state sostanzialmente considerate imputabili a variazioni di carattere fisiologico, sono state correlate a variazioni di carattere fisiologico, quali variazioni nello stato di ossigenazione dei tessuti e variazioni nel volume sanguigno che perfonde i tessuti stessi. Quello che vorremmo fare noi è sfruttare queste correlazioni per vedere se è possibile correlare variazioni misurate nella riflettanza del disco ottico a alterazioni fisiologiche indotte magari da stati patologici. Questa slide mostra un po' lo schema a blocchi del sistema sviluppato. Per effettuare una misurazione di riflettanzi io devo illuminare il fondo oculare con una radiazione luminosa di caratteristiche note in termini di potenza ottica nota e lunghezza d'onda nota. Devo cercare di illuminare in modo uniforme e mi interessa valutare la distribuzione spaziale delle intensità ottiche della radiazione luminosa che è stata retrodiffusa dal fondo oculare e viene acquisita da una videocamera. Lo strumento è basato su una fundus camera che è uno strumento normalmente utilizzato dagli oculisti che incorpora al suo interno due sorgenti luminose. La sorgente luminosa L1 ha le lunghezze d'onda del vicino infrarosso e serve per illuminare uniformemente il fondo dell'occhio. La sorgente L2 che condivide parte del camminotico della sorgente precedentemente menzionata ha invece le lunghezze d'onda del verde e serve per generare una stimolazione visiva diffusa. Questi due LED sono controllati tramite unità di controllo che è stata realizzata interamente presso il nostro laboratorio e incorpora al suo interno un sistema microcontrollore e dei convertitori DA che consentono di generare delle correnti costanti in intervalli chiaramente ben definiti e inoltre limitatamente per quanto riguarda il LED L2 incorpora anche un sistema di temporizzazione in grado di generare delle forme d'onda di tipo onda quadra per appunto generare dei pattern di stimolazione visiva. L'unità di controllo viene gestita direttamente da un frame grabber tramite un'interfaccia seriale asincrona il frame grabber a sua volta riceve il segnale video dalla telecamera e interagisce col personal computer tramite un interfacciamento LAN gigabit Ethernet. Un pannello di controllo realizzato in ambiente visual basic operante appunto su PC permette di controllare tutti i compiti e i task di misura dello strumento e una cosa che vorrei sottolineare che non ho detto prima è la presenza di un filtro F che serve sostanzialmente per bloccare il passaggio della radiazione verde. Io voglio sostanzialmente valutare la variazione di riflettanza solamente imputabile solamente rivelata alle lunghezze d'onda del vicino infrarosso. In questo modo anche eventuali sia la luce verde che eventuali perdite di luce non vanno ad alterare la misura. I protocolli di misurazione che sono stati seguiti è mostrato qui in figura sostanzialmente quello che voglio valutare è come varia la riflettanza del fondo oculare a causa della stimolazione che do io non di eventuali altre stimolazioni per cui di fatto viene data inizialmente 20 secondi di linea di base in cui ho entrambe le luci sia quella infrarossa che è quella verde entrambe accese ed entrambe comunque a intensità costante dopodiché per 60 secondi la luce verde viene modulata con un'onda quadra per generare una stimolazione visiva. Le immagini sono state acquisite con la telecamera con la videocamera con un frame rate di 25 immagini per secondo le immagini che sono state acquisite durante diciamo così l'intervallo di linea di base sono state raggruppate in due gruppi da 10 secondi ciascuna cioè un gruppo contenente le immagini acquisite durante i primi 10 secondi di baseline e il secondo gruppo durante gli ultimi 10 secondi di baseline tutte queste immagini sono state separatamente mediate per cui sono state ottenute due immagini rappresentative della condizione di linea di base che appunto ha assenza di stimolo questa diciamo così è la condizione di riferimento rispetto alla quale verrà paragonata poi quanto acquisito durante la condizione di stimolazione visiva per quanto riguarda invece le immagini acquisite durante la fase di stimolazione visiva tutte le immagini sono state considerate come suddivise in intervalli di 3 secondi ciascuno e su quegli intervalli sono state appunto mediate l'informazione di interesse che è stata espressa come è stata considerata come quella espressa in questa equazione e cioè sostanzialmente è la variazione è la variazione percentuale relativa della risposta del sistema diciamo così della riflettanza durante la stimolazione visiva rispetto alla condizione di baseline questa sostanzialmente presuppone una diretta proporzionalità tra l'intensità diciamo così dei pixel dei valori di pixel ottenuti dalla telecamera e effettivamente della riflettanza questa relazione è quella che si usa normalmente in letteratura ed è stata utilizzata comunque appunto per potersi confrontare con i risultati ottenuti in letteratura questa è un'immagine del fondo oculare come acquisito dal nostro strumento in realtà è stata applicata una maschera di contrasto appunto per evidenziare le varie regioni comunque abbiamo che questo è il discottico questa è la zona temporale cioè in questo caso questa è questa qui per il destro il sinistro questa è la zona nasale in questa zona abbiamo quella che si chiama optic cap che è il punto sostanzialmente in cui le fibre nervose dei fotorecettori la abbandonano il diciamo così il fondo dell'occhio per andare a formare il nervo ottico e collegarsi al sistema nervoso centrale e qui abbiamo la arteria centrale retinica e la vena centrale retinica i siti di misurazione sono stati scelti come mostrati in figura in particolare la regione numero 7 è una regione di controllo la regione numero 7 è situata al di fuori del discottico e sostanzialmente il flusso sanguigno che la perfonde è principalmente coroideale la coroide è uno strato ricamente vascularizzato che fornisce la maggior parte della porta sanguigna tutta la retina per cui è stata scelta come regione di riferimento poiché non è possibile con una stimolazione visiva di modesta entità come quella che abbiamo effettuato noi di riuscire ad alterare comunque il flusso sanguigno in questa regione per questo è stata scelta un po' come controllo quelli che mostro i grafici che mostro da adesso in poi diciamo così sono riferiti alla variazione percentuale di riflettanza rispetto all'intervallo di baseline misurati durante l'intervallo di di stimolazione visiva per cui abbiamo dall'istante t uguale 20 secondi a t uguale 80 secondi rappresentiamo raffiguriamo solamente il periodo di stimolazione visiva il primo punto che si trova in corrispondenza del tempo t uguale 20 secondi rappresenta la variazione misurata durante gli ultimi 10 secondi di baseline rispetto ai primi 10 secondi di baseline che come vi ho detto precedentemente sono un po' il nostro campione di riferimento non ho riportato un grafico per ogni regione perché se no non si finiva più però ho evidenziato comunque ho notato che si sono evidenziati dei comportamenti comuni per quanto riguarda le regioni 8, 9, 4, 6 abbiamo un comportamento di questo tipo abbiamo una variazione dal meno 0.1% al meno 0.9% durante la baseline e abbiamo una significativa diminuzione della riflettanza durante il periodo di stimolazione visiva più o meno si va dal meno 1.8% al meno 2.7% insomma più o meno comunque il motivo diciamo così i valori sono questi qui questo è in buon accordo con quanto presente in letteratura queste regioni sono pienamente all'interno del disco ottico e sono diciamo così sono misurate in zone prive di vasi sanguigni visibili ma in una zona in cui la microvascularizzazione è diciamo così sotto alle fibre nervose è molto molto ricca per cui si vede bene comunque è ragionevole aspettarsi una buona risposta alla stimolazione visiva per quanto riguarda invece i risultati ottenuti nelle regioni 5, 1 e 3 quello che si è ottenuto è una non si nota una significativa né aumento né diminuzione del flusso sanguigno questo può essere spiegato facendo questa considerazione queste regioni sono molto sulla periferia del disco ottico e probabilmente il flusso sanguigno in loro corrispondenza è principalmente core ideale per quanto riguarda resta fuori la regione 2 ecco la regione 2 è in una zona è proprio nella optic cap come vi dicevo prima è in una zona in cui non ci sono non ci sono vasi sanguini non c'è microvascularizzazione per cui però ha la caratteristica di essere molto vicino a dei vasi molto molto grossi una variazione una variazione nello stato di ossigenazione nella riflettanza qua può essere dovuta praticamente unicamente a una vasodilatazione una vasocostrizione in questo caso vista la modesta variazione direi che non ci sia nell'una nell'altra sostanzialmente per essere sicuri che le variazioni di riflettanza valutate non fossero dovute ad artefatti appunto visto che se ne parlava prima è stato effettuato una misurazione un ciclo di misurazioni analogo alle precedenti su un modello di occhio artificiale chiaramente essendo un modello completamente meccanico non devo ottenere nessun tipo di variazione di riflettanza durante la stimolazione visiva e in effetti quello che si nota quello che si nota è che valutata la scala diciamo così valutata la scala verticale non si nota una significativa variazione nella riflettanza ho calcolato la deviazione standard di tutta la popolazione dei punti è uno 0.015% paragonata a una diminuzione significativa come abbiamo visto prima del 2.5 e 2.6% per cui effettivamente quello che abbiamo misurato è imputabile a qualche fenomeno di carattere fisiologico è stata valutata inoltre anche la dipendenza della risposta della variazione della riflettanza al variare della frequenza di stimolazione è stata provata su tre differenti frequenze 8, 16 e 20 Hz è stato fatto un fitting e si vede un comportamento di tipo passabanda con una risposta massimale intorno a 13-14 Hz i risultati così ottenuti sono molto confortanti perché sono molto simili a quelli ottenuti con un'altra tecnica cioè in particolare la flussometria laser Doppler sempre nel discottico ma in merito alla risposta della variazione del flusso sanguigno alla stimolazione visiva è quel fatto che noi con una tecnica differente abbiamo ottenuto dei risultati che sono paragonabili credo ci possa far rendere ottimisti sulla bontà o comunque sul fatto che la tecnica potrebbe effettivamente essere utile per estrarre informazioni di tipo fisiologico dalle misurazioni fatte per cui concludendo questa prima parte di attività possiamo dire che è stato sviluppato un riflettometro per misure variazionali di riflettanza sul fondo dell'occhio e i risultati ottenuti sono stati in buon accordo con i risultati presenti in letteratura passo ora a parlare dell'altra linea di ricerca che appunto è un sistema per misura di assorbanza basato su un led ultravioletto la determinazione della durata ottima di un trattamento di dialisi viene solitamente effettuata valutando il volume di sostanze tossiche in particolare l'urea rimossa dal sangue durante ogni singola sessione per determinare il volume di sostanze tossiche rimosse occorre effettuare prima di ogni sessione un prelievo sanguigno e alla fine di ogni sessione un altro prelievo sanguigno portare questi campioni in laboratorio determinare sostanzialmente il volume equivalente di urea rimosso e in base a questi dati stabilire il tempo necessario il tempo del successivo trattamento della durata del successivo trattamento chiaramente questa è una cosa che deve essere fatta per approssimazioni successive cioè solo dopo un certo numero di sessioni di dialisi viene determinato il tempo ottimale per la rimozione della quantità ottimale di urea il problema è che comunque dal volume di urea rimosso dipende anche l'aspettativa di vita del paziente per cui sarebbe sicuramente auspicabile avere un sistema che riesca a misurare in tempo reale quanta urea sto rimuovendo durante il mio trattamento dialitico pronto ok scusate per cui diciamo lo scopo di questa parte dello studio è sviluppare un sistema che potesse potesse diciamo così sfruttare un qua ci manca una slide ci manca una slide ok non so cosa sia successo ci manca una slide in questa slide semplicemente veniva mostrata una correlazione lineare tra la concentrazione di urea nel dializzato e l'assorbimento alla lunghezza di 285 nanometri nell'ultravioletto del dializzato in questo modo era nata sostanzialmente l'idea di realizzare un sistema che sulla base della misura dell'assorbanza del dializzato esausto si potesse risalire alla concentrazione di urea rimossa dal sangue durante il processo dialitico per cui si potesse determinare in tempo reale in modo inequivocabile la durata del trattamento di dialisi cioè quando incomincio a rimuovere quando ho raggiunto la concentrazione che volevo vuol dire che non ho rimasto abbastanza la interrompo lì e non ho bisogno di fare delle approssimazioni successive così via me ne mancano un po' mi spiace mancano non so come sia successo mancano un certo numero di slide comunque il sistema sostanzialmente è basato come ho detto sull'assorbimento io devo immaginare sostanzialmente una radiazione luminosa di una data intensità ottica che incide su un campione ad assorbanza nota chiaramente più elevata l'assorbanza del campione tanto minore sarà l'intensità della radiazione ottica che riemerge dall'altro lato del campione per cui sostanzialmente dal rapporto di queste due intensità io riesco a risalire ad un'assorbanza esiste una legge che è detta la legge di Lambert Beer per mezzi puramente assorbenti che permette di correlare questo valore di assorbanza al valore di assorbanza misurato al valore della concentrazione delle specie assorbenti per cui sostanzialmente il sistema che era stato sviluppato comprendeva una cuvetta per contenere il dializzato una sorgente di illuminazione per generare la radiazione incidente di cui vi dicevo prima un fotodiodo posto in riflessione che permette di valutare di avere un'informazione sulla potenza ottica effettivamente incidente sulla cuvetta e un fotodiodo in trasmissione che raccoglie la luce emergente dal campione appunto le correnti fotogenerate dai dispositivi sono proporzionali alle intensità ottiche ricevute dai due fotodiodi e il sistema utilizza un sistema di conversione che converte digitalmente la carica in ingresso in un dato a 20 bit ad elevata risoluzione ed è controllato da un sistema microcontroller che appunto si occupa di implementare tutti gli algoritmi di controllo per il comitore perché utilizza una macchina stati finiti piuttosto complicata esso comunica con un personal computer mediante un'interfaccia usb e si occupa anche di diciamo di pilotare il led di eccitazione il sistema di misura è stato stato tarato è stata effettuata la taratura utilizzando sei sostanze di assorbimento noto tutte nel nel campo diciamo così nel campo di assorbimenti che tipicamente ci si aspetta di trovare durante il processo di dialisi è stata effettuata è stata ottenuta una retta di taratura appunto che esprime appunto come il logaritmo della corrente del diodo di questo del diodo in trasmissione diviso la corrente del diodo in riflessione che è un'espressione lineare in cui entra il coefficiente alfa che è l'assorbanza per unità di lunghezza l'assorbanza per unità di lunghezza non è altro che il prodotto della concentrazione per il coefficiente di estinzione molare della soluzione per cui sostanzialmente misurando il rapporto tra queste due correnti utilizzando questa curva è possibile risalire al valore di assorbanza per unità di lunghezza presentato dalla soluzione a questo punto utilizzando conoscendo il coefficiente di estinzione molare alla lunghezza d'onda di interesse è possibile risalire al valore della concentrazione questa questa relazione di taratura è stata determinata con un coefficiente di correlazione lineare particolarmente elevato è stata inoltre valutata la stabilità nel lungo periodo su 180 minuti della misura sostanzialmente sulla misura di un singolo campione ad assorbanza nota è stata ottenuta una deviazione standard di 0.02 cm almeno 1 su un valore di 1.55 è circa 1.5% sul valore medio è una buona stabilità sostanzialmente in conclusione per questa parte di attività quello che si può dire è che è stato sviluppato questo strumento che misura l'assorbimento nell'ultravioletto in tempo reale è caratterizzato appunto da una notevole linearità nella range di assorbanze tipiche del processo di dialisi come conclusioni generali abbiamo visto per cui la mia attività è stata incentrata sullo sviluppo di strumentazione a carattere biomedico finalizzata alla diagnosi precoce di patologie vorrei fare semplicemente vorrei fare solo un paio di considerazioni nel senso che tutte queste attività sono ben lontane dall'essere concluse nel senso che sono possibili molti sviluppi futuri in particolare abbiamo sempre parlato di strumentazioni biomedicali beh allora a questo punto bisogna riprovarle anche dal punto di vista clinico e questo si potrebbe coinvolgere anzi sarebbe necessario coinvolgere per un'interpretazione più corretta dei risultati anche dei fisiologi oppure dei medici è una cosa molto importante che comunque tutti gli strumenti che abbiamo sono stati realizzati a livello prototipale comunque per usi di laboratorio non implementavano nessun tipo di isolamento ottico galvanico comunque che isolassero il paziente da potenziali shock oppure comunque da correnti di fuga che potrebbero causargli dei danni se devono funzionare comunque chiaramente in un ambiente clinico bisognerà pensare comunque a implementare queste strategie di isolamento io vi chiedo scusa se purtroppo la presentazione ha avuto dei problemi vi ringrazio per l'attenzione rimango a disposizione per eventuali domande volevo fare un'osservazione più che una domanda proprio partendo anche dal piccolo incidente che lei ha avuto che assolutamente non ha compromesso la qualità della sua presentazione però se questo piccolo incidente nel computer fosse avvenuto nel dispositivo di controllo che lei ha mostrato nelle due macchine di cui lei ha detto che è anche governato da macchine a state finiti io potrei aver ricevuto nell'occhio una dose veramente esagerata forse di laser dice di no il professor Rovati ma io poi lei si è lasciato anche sfuggire mi sembra che il modello è basato sulle macchine a state finiti sulle macchine a state finiti abbiamo anche problemi di non terminazione non computabilità insomma il modello generale di computabilità dei modelli a stati finiti di Arel non è ancora stato trovato quindi ecco volevo ripeto non è una domanda ma un'osservazione trasversale quella parte che voi disegnate come control unit è qualche cosa di estremamente ancora non determinato dal punto di vista informatico e si può insomma essere un'osservazione pregnante lo sia insomma grazie per il commento ha qualcosa da aggiungere perfetto grazie a tutti 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 grazie a tutti